Soleil Sorge e Alex Belli sono tornati a tuonare su Gian Maria Antinolfi. Dopo che nei giorni scorsi l'ex corteggiatrice ha rivolto parole al limite nei confronti del campano, lo staff dell'imprenditore, sui social, ha chiesto addirittura al GF VIP di prendere provvedimenti. Ieri l'attore Emiliano e l'italo-americana hanno di nuovo presente alla conversazione anche Davide Silvestri che, udite le uscite dei suoi due compagni di avventura, ha precisato il suo disappunto, arrivando a dissociarsi da quanto ascoltato. Sabato sera, dopo cena, Belli, Silvestri e Sorge si sono appartati, criticando l'atteggiamento di Gian Maria che continua a corteggiare Sofì Codegoni. Nonostante questa gli abbia di recente fatto capire di non voler approfondire la conoscenza nella fattispecie Antinolfi ha lasciato dei post-it sul letto di Sofì, la quale ha criticato ampiamente il gesto romantico. Più fatti e meno parole. Il succo del discorso dell'ex tronista. L'imprenditore, con la coda tra le gambe, ha sostenuto che il suo voleva soltanto essere un pensiero dolce nel commentare la vicenda. Soleil, Davide e Alex hanno concordato nel dire che Gian Maria sia da smascherare perché i suoi atteggiamenti non sarebbero dettati dalla spontaneità bensì da una vena strategica ben precisa. A un certo punto, però, Silvestri ha tenuto a sottolineare il proprio dissenso per alcune battute che si sono scambiati sorge e belli. Questa roba del letto era da American Psycho. Hai presente quando tu arrivi? Oh. Fidati. La mia percezione di questa roba con tutte le frasine. Oh fidati e da American Psycho. Ha bisbigliato a... Con me si presentava sotto casa. La chiosa di Soleil. Frasi che non sono piaciute a Silvestri. No ragazzi. Sta roba qua no. Così state esagerando. Io mi dissocio. Alex. Però. Ha ribadito quanto detto. Con convinzione. Mi dissocio. Ha ripetuto a sua volta...